Ecco, perché so a memoria? Vuoi dire te, oh, perché ti piace so a memoria far vedere? No, perché sono una nevrotica e siccome per me la poesia è un ansiolitico devo avere gli ansiolitici con me un attacco di panico in metropolitana l'ho tenuto a bada per anni con D'Annunzio e Prati ma dopo un certo numero di applicazioni l'effetto finisce e allora dovevo impararne a memoria degli altri non mi dico mai i miei versi se ho un attacco di panico perché me ne vengono due allora, i miei versi purtroppo me li ricordo quasi tutti mentre quelli degli altri mi piace averli proprio come il tavolo quando non basta il tavolo mi dico dei versi e io ne so in tante lingue e quelli che amo cerco di averli sempre con me e poi ho un'altra sindrome strana che è quella dell'incendio o del terremoto per cui uno deve dire qual è la cosa importante che devo salvare io voglio avere tutto con me ecco, non voglio avere niente da portarmi via vorrei averli tutti nella testa i versi che amo ecco, non voglio avere niente da portarmi via